Viu dà un'occasione ai professionisti e agli studenti di aggiornare le proprie conoscenze, quindi portando in Italia tutti gli artisti più bravi nei diversi settori che spaziano le diverse applicazioni della grafica digitale, dal cinema ai videogiochi, alle applicazioni mediche, al design, alla realtà virtuale, quindi portando gli artisti che stanno facendo le cose più significative, sicuramente per tutti coloro che si vogliono aggiornare è un'occasione unica, cioè Viu non è solo un festival, c'è tutta una dimensione di aggiornamento, recruitment, workshops con i migliori, per esempio quest'anno abbiamo il workshop con Walter Merch che sicuramente è una delle figure più significative per quanto riguarda il sound design, cioè lui ha coniato il termine stesso, il termine sound design, quindi dei giganti assoluti che si prestano anche a fare, oltre alle lezioni magistrali, a fare delle masterclasses che sono non solo per gli studenti ma per i docenti, per tutti coloro che vogliono aggiornarsi, quindi Viu è una cosa abbastanza unica dove non solo facciamo vedere i film, ma ci sono tutte le discussioni di come sono stati affrontati alcune sfide tecniche, di come si stanno spingendo i confini nei diversi settori, quest'anno si sta parlando tantissimo di realtà virtuale applicata allo storytelling immersivo, interattivo, quindi c'è molta attesa per la presentazione di Shannon Tindall di Google che parlerà di queste applicazioni, cioè si dice che nei prossimi anni attraverso i nostri smartphone guarderemo un mondo che sarà interattivo, che la realtà virtuale sarà nella realtà dei tutti i giorni, quindi c'è attesa per vedere come queste tecnologie vengono applicate alla creatività, all'arte. Il programma di Viu è veramente strepitoso, abbiamo sei registi che portano diverse anteprime, tra cui l'italiano della Dreamworks Animation Alessandro Carloni che torna in Italia, che torna a Viu e porta il Kung Fu Panda 3, film che uscirà solo nel 2016, quindi è un'anteprima assoluta. C'è il piccolo principe col regista Mark Osborne che sicuramente è uno dei film più poetici e più attesi del momento, dovrebbe uscire in Italia all'inizio dell'anno prossimo e poi c'è tutta la parte che riguarda l'animazione con diversi film in anteprima come Peanuts Movie, Charlie Brown e i suoi amici col direttore delle animazioni, Scott Carroll, della Blue Sky Studios. C'è anche la direttrice della fotografia, Kim White, della Pixar, la quale parlerà di come è stato realizzato il film dal punto di vista del colore e del sound design. Michael Kurinsky della Sony Pictures Animation che è il production designer del film Hotel Transylvania 2, parlerà di colore perché anche lui è un esperto di colore, parlerà di questo film che comunque è uscito nelle sale italiane in questi giorni. Poi c'è anche Jorge Gutierrez col bellissimo Book of Life che abbiamo presentato durante il Viewfest e c'era una platea piena con tantissime domande, tantissimo interesse dopo. Chris Perne che ha fatto Piovono Polpette 2 e recentemente quest'estate ha lavorato con noi qui a Torino a fare un corto per l'Expo, un corto di due minuti che è intitolato Evolve a Foodie Tale che è stato realizzato in un mese e abbiamo lavorato con tutti i talenti locali, i bambini delle scuole locali hanno fatto le animazioni, i disegni dei personaggi, hanno creato la storia e lui ha fatto solo la supervisione. Quindi c'è la tavola rotonda sui registi, la tavola rotonda sulle donne nell'animazione e anche una tavola rotonda sui direttori degli effetti visivi e poi ci sono i videogiochi, un programma ricchissimo con le applicazioni più innovative delle tecnologie ai diversi settori. La grande novità quest'anno è che ci siamo ancora, speriamo di esserci anche l'anno prossimo, ci sono sempre i tagli, la crisi economica è più acuta che mai, quindi speriamo di poter esserci ancora e sicuramente tenteremo di avere gli artisti che stanno facendo le cose più innovative del momento perché vengano a insegnarci e a ispirarci e a farci crescere, che ci insegnino a utilizzare queste tecnologie per capire dove sta andando l'animazione, dove stanno andando le prossime tecnologie, come sarà il nostro mondo del futuro. Grazie per la visione!